Presidente Fontana, ma è vero che con le nuove leggi europee mettiamo in dubbio la libertà di movimento dei cittadini? Ma certamente se le nuove regole europee non verranno riviste, non verranno riparametrate al buon senso e alla necessità dei cittadini, si rischia veramente di correre, di fare delle scelte che siano assolutamente inaccettabili. Speriamo che il risponso delle urne, ma soprattutto la dimostrazione che i cittadini europei hanno dato nel non voler accettare certe norme eccessivamente stringenti, facciano riflettere chi prenderà il governo dell'Europa. Il rischio è che ancora fingano di non essersi accorti di niente, anche se per esempio l'ultima decisione di porre dei dazi sulle auto elettriche che provengono dalla Cina sembrerebbe, uso il condizionale lo sottolineo, sembrerebbe voler dire che qualcosa vogliono cambiare. La Lombardia è una regione che ha sempre avuto un rapporto straordinario con l'automobile. Milano è una città che ha un'eccellente rete di servizi urbani, però tutti quelli che vivono fuori Milano non riescono a cavarsela senza l'automobile. Cosa si può fare? Sicuramente migliorare il trasporto pubblico, su questo ci sono dubbi e non ci sono dubbi che noi stiamo facendo di tutto per migliorare per esempio quello su ferro, anche se in questo nel nostro caso le ragioni dei disservizi non sono da imputare a noi e ai nostri treni, ma sono da imputare alla rete che non è nostra e non è gestita da noi, ma da RFI. E poi bisogna cercare di creare le condizioni perché tutti i territori della nostra regione possano avere dei collegamenti migliori sia con reti di collegamento materiali che immateriali. Io credo che tutta la regione, credo che gli studi che si stanno facendo e le iniziative che si stanno portando avanti non possano più essere limitate soltanto all'area urbana, ma devono essere portate ed estese quantomeno a livello regionale, quantomeno a livello di tutti i territori della nostra regione. Da una parte gli autovelox, dall'altra parte le infrastrutture che sono un pochettino fatiscenti. Come ci si regola con la sicurezza? Beh, quello della sicurezza è un altro tema, un tema che sicuramente deve essere portato avanti innanzitutto con una miglior conoscenza, con una miglior formazione, con una migliore e più capillare spiegazione soprattutto ai giovani che è assurdo correre dei rischi, è assurdo non rispettare quelle che sono le regole perché poi i danni si creano agli altri ma si creano anche a noi stessi. Io credo che si debba spingere molto ed investire molto sull'innovazione e sulla tecnologia perché attraverso l'innovazione e la tecnologia si possono raggiungere dei risultati che da un lato migliorano la qualità della circolazione e dall'altro lato riducono anche quelli che possono essere i rischi e i pericoli. Penso all'intelligenza artificiale, penso alla guida autonoma, penso ai nuovi sistemi di collegamento anche per via aerea fatta da piccoli mezzi. Ecco, sono tutte innovazioni sulle quali dobbiamo investire per trovare una soluzione migliore.